me lo porto dentro giro l'italia per te post partito non lo facciamo post partito non lo facciamo ormai ennesima ordinaria amministrazione rosso c'era secondo me è un po' arancione però va bene lo stesso marotta lì che come sempre un po' dei coglioni rigore nettissimo Turan se ne procura un altro Rochala oggi ha riassunto la sua annata a 10 e l'odio in pagella idolo nero blu uno di noi per il resto ragazzi godiamoci la festa i video stanno a zero godiamoci la festa cosa possiamo dire bellissime immagini col mister sotto la curva che lo alzano ma vale che gli schizza l'acqua in faccia insomma ormai non possiamo più dire niente ormai la festa abbia inizio ci vediamo domani poi con i videopagelle magari altre robe milanista pezzo di merda e chi non sta persieme a noi cos'è e chi non sta persieme a noi cos'è cos'è milanista pezzo di merda grazie a tutti grazie a tutti